Sì Così quando lo monti Sì Ciao a tutti Buonasera Ciao a tutti amici di Youtube Siamo qui con Sono un ospite Ma no Ma che cazzo se ne fotte Ci sembra una cosa professionale Aspetta vorresti dire Io non sono professionale No 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 Hai partito o no Sì che è partito Allora Spieghiamo agli amici di Youtube Cosa dobbiamo fare Ma abbiamo fatto già nell'altro video L'applicazione si chiama Vishnu Alla fine Tu sono un razzista Va bene Allora Ah premessa Io sono l'unico con le cuffie Cioè quindi sono l'unico Penso si vede Tu per casa Comunque a cosa stiamo giocando Spieghiamolo Ah Slender Di nuovo Ok Però questa è la cambiata mappa Guarda Basato sul Slender Allora No adesso no Ancora Ancora Inizia il gioco Adesso Perfetto Adesso è partito E' partito Sanatorium Ok Ok Una volta entrato in Matrix Santo non puoi uscire Quindi ho vinci O mori Ho vinci Ho vinci Ok I trasti penso li conosci Ah ok Dobbiamo trovare le 8 Come corro? Ecco Eh ma è una cosa che non dico Shift Allora inizia a spaccare la lampadina Ok Dove cazzo sta Shift Ah ma è maius Ok io corro Corri Già corri Ti stanchi un bombatore Ma lui c'hai muscoli Può correre Quanto tazzo vuole Ma qua poi la certo Puoi lasciare le torcette No Quella è la prigione Allora io vedo quelle luci che sai C'è se poteva fare mi parla Dove? No quello è lo slenderman Che lo spy nelle spezie Lo spy Lo spy Lo spy Lo spy Allora Lo spy Ah Inizia nello spy Oh c'è una pagina C'è una pagina Always watching Significa Significa che un barrone Oddio Cazzo sta su Andò ti guarda mentre ti tocchi Ma tu ci senti Ci senti Certo che vi sento La regia chiede se ci senti E senti lì Lì Lo sento Aspetta Che dici di scatto Edesso un'antica Andiamo Gameplay deve durare Almeno due minuti Ah E' riga Torni indietro Torni indietro Torni indietro Cazzo Ma tu stasè tutto pazzo Noi non abbiamo paura Adesso lo prendi da dietro E lo guardi dritto negli occhi Si è un vero uomo Cazzo Non fare la femmina Perché stansimando Perché stansimando Perché stansimando Fermo tutto E va Eeeh Vattene da qui No che non me ne vado Io sono nato e molto Si che te ne vado Ah No carnazza La putta No scappa No scappa 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 La forza che accendi La forza che accendi Cazzo Cazzo Ehi papo Shift Shift Go Rigoz Stai fì Ecco pronto Ti girai indietro Vattene Antone Fissà Ma Allora Secondo me possiamo fare amicizie Con lo slenderman Cioè alla fine lui è come noi No Non mi siete dei razzisti Va beh Si che sono razzista Cazzo Lo slender non può Non può avere Gli nostri stessi diritti Già Ne parleremo Il dibattito La vuoi smette di ansimare Bruttostro Ma se lo fai correre È normale Allora Pia la bevanda energetica E' vero cazzo Una Cola Cola Bumba Pia la Pepsi Bumba Da oggi sono le monzò Tanto da quel distributore Ma appena pare un'altra L'altro faccio Ma lui E te al limone Il te al limone Ti piace tanto Mamma che schifo Per il pubblico A casa Scrivete nei commenti Te alla pesca O te al limone Se dite te alla pesca Bene Te al limone Venite bannati Bannati da cosa? Da YouTube Da YouTube Da YouTube E dalla vita Perfetto Una pagina Oh leggi Mamma No one survive Ma papà La canzone Questo è lo spot Per il nuovo programma Su D-Max Di sopravvivenza Oh mo ci sta un pianoforte Sì La occulta Nei videogiochi Ma speriamo che si sente Col micro Ci sta un cazzo Di pianoforte In sottofondo Non ci interessa Smette a leggere Che ne fa l'indicappato Ma vai nella stanza Ma questa è l'unico Non è una storia Ma già non si è stato un gioco Ma già non si è stato un gioco Ma già non si è fuori Ma poi dove vede c'è Vediamo che questa è la stanza Adesso sappiamo che questo È il filo Che non fa fidanzare È lui o non è lui Certo che è lui Devi uscire Si sta piegando tutto Mamma mia vai Cazzo si mi sto gasando Non ti gira Non ti uscire Ma vedi che ci stava Amico stai compromettendo la partita Con questi stanzi Non spoilerare Non spoilerare cosa? Che ci sta lo Slender Ma è stanco Si stanca subito Sta a me Ma non ti fermare Eh ma non corre Bastardo Eh ho capito Però Cammina almeno Fai un passo veloce Faccio di moonwalk Ho già visto questa cosa Fa come vuoi Basta che ti muovo Eeeh C'è a sinistra E mo vattene Via 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 Ma che brutti rumori Via 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 Ah cristo Una g Ma no Ma si è incontro Vai di lì dritto Vattene Ma c'è Ma c'è Ma c'è No cazzo no Sì sì Ma c'è Mamma mia Che siamo sulla buona strada E subito si è stancato Subito si è stancato Ma che si è stancato Ma sicuramente Un secco di me Come a te Vattene 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 Ma che è sto gioco In modalità monculoide C'è in quest'ora Si fai Vattene Vattene C'è quel porco di gioco Vattene Oh ma Oh Ma vai a fare in culo Scappa 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 Ma ma mi ha veramente cagato il cazzo C'è che cazzo ti fessi Strono Questa parte la dovremmo C'è il surare con tanti bip 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 guardalo continuo a seguirmi ciò è andato ancora non per quest mia keep the mail non c'è niente di voi gira la tristezza qui scopo facendo la scuola sparaci un 360 lancio una seme tex bravo lancio il topo oh ma quella torcia non si spacca visto a me non mi ha evitato un altro infarto se ce l'hai spinta la torcia ma all'isultare piglia la pagina e basta in quattro per la vittoria scappa cazzo corri 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 gm c'è qualcuno dietro di me perchè lagga perchè lagga perchè stai spaccando tutto il computer ma cazzo un computer del genere che l'hanno senti il tigre ne devi andare vattene corri 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 gm maiuscolo control ma noto gg niente proprio come sparo r2 r2 sto premendo ma non c'è come cazzo fai a premere r2 su una tastiera come premere r2 giustamente si complica le cose allora allora c'è nishu e poi bruca chi dentro chi mi ammetto mi sono perso ma tu non hai mai saputo dove andare io ho una mappa mentale ma no perchè lagga cazzo non lagga stai no sono io che sto lagga non diciamo stupiggiato shhhhhh ahhh corri gm corri corri che puttano eh 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 aspetti è lui o non è lui certo che è lui non è lui sempre lui mi sente fino a qui c'è umore ma la barra della stamina la bamba dopo la bamba la bamba senza spaccare il computer e la tastiera ok amici dai non è stato bravo no aspetta no questa me l'ha spiegata allora non c'era nessuno prima e poi lui è comparso esatto amico non c'era così tanto e questo è il mondo questo è l'amore a prima vista allora il video è finito come potete benissimo vedere e se vi è piaciuto mettete like potrei anche non farlo se lo volete fare oh bene se ci dicano non lo devono affanculo non lo vedi gli like a me vedi di vedere che sennò poi dopo no condividere no condividere veramente ok stacca quando te lo dico io no condividere no no condividere no